Tra i padroni di casa del primo porto magistrittuale, il presidente del Rotary Club per la terra di lavoro, il Rotary fa la differenza in che senso? In che senso? Nel senso che cerca di portare sul territorio tutte quelle che sono le testimonianze migliori e noi siamo particolarmente contenti che il governatore Lugania abbia deciso di aprire a Caserta questo percorso tematico sul rapporto tra Rotary, pubblica amministrazione, industria e mondo delle professioni. Lo facciamo con piacere, soprattutto alla luce di quello che è invece il faro negativo che si è acceso su questa provincia dalle risultanze delle ultime notizie sulle classifiche. E quindi il Rotary in che senso farà la differenza? Quest'oggi si parlerà proprio del rapporto con l'industria e con il commercio o con il capitolo? Farà la differenza perché abbiamo cercato di coinvolgere le eccellenze, i migliori testimoni di valore del settore dell'industria e del commercio. Molti di questi sono dei notariani appartenenti qualcuno al mio club e ad altri club della provincia e quindi cercheremo di trarre quegli spunti necessari per poi avere ancora più forza nelle nostre azioni quotidiane sul territorio.